Le news dell'Isola dei Famosi rivelano novità clamorose sui papabili naufraghi in Honduras, eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su uno dei programmi in partenza a gennaio su Canale 5. Di cosa stiamo parlando se non dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, che ha appena annunciato clamorose novità riguardanti il cast della nuova edizione, che si prospetta ricca di scintillo. Isola dei Famosi, Stefano De Martino invitato, arriva la conferma le news della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, rivelano che il settimanale, chi ha svelato un'incredibile indiscrezione sul nuovo inviato del reality di Canale 5, quest'anno il ballerino professionista di amici è già pronto con le valigie in mano per partire per l'Honduras. Il produttore di Mediasex sono rimasti favorevolmente colpiti dal carisma dall'ex marito di Belen Rodriguez, come anticipato Daniele Bossari era tra in pole position, visto il suo incredibile successo al grande fratello Vip, che lo ha incoronato vincitore della seconda edizione. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha svelato, che Stefano De Martino si è incontrato con Alessia Marcuzzi per definire gli ultimi dettagli prima di volare in Honduras, inoltre il papà di Santiago sarebbe stato invitato dall'ex moglie a cimentarsi in questa nuova avventura televisiva, abbandonando il posto di amici di Maria De Filippi Emanuele Filiberto Nautrago dell'Isola 2018. La verità dalle novità riguardanti il cast della nuova edizione dell'Isola dei Famosi si apprende che Alfonso Signorini ha anticipato l'entrata di Emanuele Filiberto nel cast. Se per Stefano De Martino non ci sono più dubbi, la partecipazione di un membro di casa Savoia sarebbe ancora un mistero, peccato che il principe di Savoia, abbia categoricamente smentito tale notizia, rimproverando aspramente chi è D'Agostia, i due giornali, che avevano riportato lo scopo. Un'incredibile partecipazione definita un colpaccio per la produzione dell'Isola dei Famosi. A proposito Emanuele Filiberto ha lanciato una frecciatina su Twitter per smentire la sua partecipazione ed ammonire le due riviste a scrivere notizie fondate sul suo conto. Ad un mese dal debutto non ci sono ancora certezze sulla formazione del cast, perché sentite qui, Giulia Salemi non avrebbe superato i provini mentre c'è molta confusione sul ruolo affidato ad Alda De Usanio. Un'indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo, ma sarà davvero così? Per saperlo non vi resta che aspettare la prima puntata dell'Isola dei Famosi in onda il 22 gennaio su Canale 5 per conoscere nuove notizie sull'Isola dei Famosi, vi basterà cliccare Segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore. Grazie a tutti.